Quanto è importante la locandina per un film? Molti dicono mai giudicare dalla copertina, ma per il video di oggi potremmo tenere in considerazione solo quella. Come sicuramente avrete letto dal titolo, oggi proviamo a fare un gioco. Ovviamente video completamente senza spoiler perché io non li ho visti questi film. Già perché oggi andremo a vedere delle locandine, non so quante, vediamo, di film che io ovviamente non ho visto e che in realtà mi avete consigliato voi su Instagram. Per ogni locandina daremo. Dico daremo perché in realtà se volete potete giocare anche voi nei commenti. Comunque per ogni locandino cercheremo di indovinare il voto medio del film della critica che troverò su Rotten Tomatoes che appunto va a raggruppare tutti i pareri generali della critica di tutti i film per lo più americani. Infatti i film che ho selezionato sono tutti americani. Però se la cosa vi interessa magari in futuro vedremo anche quelli italiani. Oltre al voto proveremo anche a inventare una trama, ok? Quello che mi ispira di più. Cioè invento una trama sulla base di ciò che vedo sulla copertina. E alla fine vi dirò anche se vedrei quel film soltanto considerando la locandina. Poi ovviamente andiamo a confrontare le risposte con la realtà. E vediamo quanto ne indovino, quanto no. Vabbè avete capito insomma. Partiamo con Bloodshot. Allora Bloodshot con Vin Diesel. Mi pare di leggere in basso tratto dal famoso comic book. Ovvero da un fumetto. Cui io ovviamente non conoscevo l'esistenza. Diciamo la verità. Già il fatto che sia tratto da un fumetto non promette bene. E in genere, non sempre, ma in genere la roba tratta dai fumetti fa abbastanza schifo. Vabbè, ma voi direte devi basarti solo sulla locandina. Che c'entra il fatto che, oh, c'è scritto sulla locandina che è tratto da un fumetto. Quindi, perciò lo considererò il comic. A questo punto aggiungiamo anche il fatto che c'è Vin Diesel. Fa solo film in cui puoi mostrare i muscoli. E che i produttori tra l'altro sono quelli di Fast and Furious. Quindi probabilmente si tratta di uno di quei film con scenatazioni spettacolari. Sangue, probabilmente una CGI di merda. Ma posso anche sbagliarmi. Parliamo della trama. Ci sono tre tizi con delle pistole. Un braccio meccanico. E anche la caption che leggo. La vendetta scorre nelle sue vene. Perciò Vin Diesel potrebbe anche essere una persona qualunque. A cui però viene ucciso qualcuno. Magari un membro della famiglia. Perché se no, la vendetta non avrebbe senso. E a quel punto iniziano ad andare in giro e a uccidere tutti i responsabili. Mi rendo conto che questa è sostanzialmente la trama di John Wick. Ma è l'unica cosa che mi è venuta in mente. Davvero. Quei due saranno, boh, amici. Non lo so. Se neanche sono i cattivi. Lo vedrei dalla locandina. Sinceramente no. Voto. Secondo me è una cagata. Perciò vi dico voto 15%. Trama reale di Brogcio. Dopo essere stato ucciso insieme alla moglie. Un soldato viene resuscitato da una squadra di scienziati. Potenziato con la monotec... Allora, ok, ok. Effettivamente è una cagata. Però abbiamo beccato il fatto della moglie è morta. Non mi aspettavo il fatto che venisse resuscitato. Andiamo a vedere il voto che è meglio. 31% è il doppio rispetto alla mia risposta. Comunque non ci siamo. Cioè, 31% è veramente, veramente in basso. Ma perché mi sono messo qua? Sto schiattando di caldo. Non così vicino. Protagonista, Tom Hanks. E qui, al contrario di ciò che abbiamo detto prima, se c'è Tom Hanks probabilmente è un film da vedere. Lo stile della locandina mi piace. A parte il gatto inserito qua in maniera terribile con Photoshop. Cioè, si vede proprio che è photoshopato malissimo là. Allora, trama. Tom Hanks sembra essere abbastanza arrabbiato. E più in alto, c'è chiaramente scritto, voi lo amerete, lui vi odierà. Perciò credo che è un personaggio non molto amorevole nei confronti degli altri. Comunque ci sono due case, una di fronte all'altra. E in entrambe mi sembra di vedere due cartelli, vietato animali o cani, nello specifico. Il gatto, tra l'altro, ha lo stesso sguardo di odio di Tom Hanks. Potrebbe essere il suo. Andrei più sul vietato cani. Ipoteticamente, quindi, queste due case potrebbero essere di due vicini. Uno dei quali, appunto, Tom Hanks, appunto, non andrà molto d'accordo con i vicini della casa di fronte. Che magari avranno pure un cane. E poi, boh, Tom Hanks capirà l'importanza dell'amicizia, è tutti felici e contenti. Lo vedrei dalla locandina. In realtà, sì. Voto, secondo me, è bello. 80%. Via. Quando una giovane e vivace famiglia si trasferisce nella casa accanto, lo scorbutico vedo Otto Anderson si ritrova a stringere un'improbabile amicizia che sconvolge il suo mondo. Vabbè, la prima parte è la mia amicizia, la seconda parte no. 70%. Oddio. L'ho beccato precisissimo. Appena ho visto questo titolo, ho pensato, oh mio Dio, è meraviglioso. Perciò ve lo dico subito, assolutamente sì, lo vedrei anche solo dalla copertina. Emana trash da tutti i pori e io amo i film orribili, soprattutto quelli senza senso. Ma è italiano! Allora non lo troviamo su Rotten. Vabbè, vediamo su IMDB poi, perché lì penso ci siano anche quelli italiani. Posso passare oltre questo film perché devo assolutamente parlarne. Per dire, si chiama Anatar, è tutto blu. C'è anche un'anatra enorme con un pianeta alle sue spalle. Si tratta di una parodia di Anatar. Di Avatar. In più, dietro al pianeta c'è un occhio che sembra malvagio, ma non un personaggio anatra. Quindi come Avatar potrebbe esserci magari un personaggio di un altro pianeta, magari un umano, che andrà in quello delle anatre per conquistarlo. Sto considerando le anatre come la parte buona. Poi non so, magari i cattivi sono le anatre. Su IMDB mi pare che i voti erano da 0 a 10. Io direi, oh raga, sinceramente, mi sa di 2. Deve essere generoso, eh. Ed è per questo motivo che lo vedrei. Un popolo spaziale di anatre umanoidi, gli Anatar, è alla ricerca di un nuovo pianeta da abitare dopo che il proprio Anath ha esaurito le risorse. Il comandante Dark Feather... Oh mio Dio, ma è anche Star Wars. Il piccolo pianeta di Pandoro. È anche meglio di quanto mi aspettassi. Andatevelo a vedere immediatamente. 3,8 su 10. Sto vedendo immagini del trailer. Fa veramente paura. Marry me. Allora, io capisco l'esigenza di dover parlare ad un pubblico italiano. Ma che senso ha mettere come sottotitolo la traduzione del titolo originale? A questo punto chiamatelo direttamente Sposami. Non Sposami, Sposami. Questo è un problema mio. Jennifer Lopez, Owen Wilson e Mal... Mal... Malù? Ma non è un cantante Malù? È un cantante Malù, ma... Vabbè, anche Jennifer Lopez in realtà è il cantante. Non lo so. Vabbè. Due cantanti. Partiamo male. Allora, Owen Wilson appunto mi piace. Jennifer Lopez, insomma. Luma non sapeva nemmeno che recitasse. Comunque, cerchiamo di capire la trama dalla locandina. Jennifer Lopez e Maluma in concerto. Sono probabilmente i due famosi della situazione. Dalla posa mi sembra siano fidanzati, che siano pronti per sposarsi. Ma all'improvviso, ecco l'uomo qualunque, Owen Wilson. Forse l'organizzatore del matrimonio, magari quello che gestisce il ristorante, il manager di Jennifer Lopez. Comunque è palese che alla fine Owen Wilson e Jennifer Lopez si innamorano e Maluma la prende in quel posto. Non avete comunque idea di quanto sia fatta male questa locandina. Cioè, sembrano veramente attaccati con lo sputo in un green screen malissimo. Questo è un Photoshop fatto veramente male, peggio del gatto di prima. Comunque, lo vedrei dalla locandina? No. Voto? Dalla locandina mi sembra un filmetto della domenica pomeriggio su canale 5. Capite cosa intendo? 30%. Una stella del pop scopre che il suo fidanzato la tradisce poco prima del suo grande matrimonio. Ah, no, monnaggia, non è Maluma che la prende nel sede. Così decide di sposare un completo estraneo al pubblico. Ignaro che questo potrebbe unire le loro vite per sempre. Era palese che Jennifer Lopez e Owen Wilson si mettesse insieme. Però c'è questo plot twist del Maluma che la prende nel sede. Beh, evidentemente Jennifer Lopez è la protagonista principale. Bene o male? Abbiamo capito mezzo mezzo la trama, però. 61%. Holy shit. 61% non è male. Il pubblico l'ha votato al 92%. Ah, hai capito, Mary mia. Devo essere sincero, mi ha sorpreso. Non lo vedrei, ma mi ha sorpreso. Vediamo l'ultimo per oggi, se no questo video sarà lunghissimo. Magari poi faremo una parte 2. Fatemi sapere nei commenti se siete interessati. Shadow Hunter. Città di ossa. Ok. Io non ho idea di che anno sia questo film, ma appena l'ho visto mi è venuto in mente Hunger Games. C'è stato un periodo, appunto quello degli Hunger Games, che tutti volevano fare il loro Hunger Games. Cioè tipo Allegiant, ve lo ricordate? Quella cagata. E anche Shadow Hunters in questo caso mi dà quell'idea. Attori, boh, non ci sono manchi i nomi scritti. Forse si vergognavano a scriverli. Oppure erano loro a vergognarsi di stare nella locandina di questo film. Si è già capito comunque che io non è che abbia così tante aspettative da questo film, vero? Passiamo direttamente alla trama perché hanno manchi i nomi degli attori scritti. Secondo me è la brutta copia di Hunger Games. Sì, magari ci sarà una storia diversa. Il titolo immagino debbano cacciare delle ombre. Ma sempre che so, in una città virtuale, oppure schiavizzata, o all'oscuro del resto del mondo. Una cosa così, insomma. Lo vedrei dalla locandina? No, mai. Mi sono già pentito di aver visto Allegiant. Io sto paragalando questi film. Poi magari non c'entrano assolutamente nulla uno con l'altro, però... Il video è mio, ok. Voto assolutamente basso. E un po' più precisi stavolta. 23%. Una ragazza dalla vita ordinaria scopre di appartenere agli Shadow Hunters. Dei cacciatori d'ombre che proteggono il mondo dagli spiriti del male. Alla scomparsa della madre, la giovane affronta la propria missione. Quindi non c'entra niente con Hunger Games. Però secondo me rimane comunque... Confermo di nuovo il mio 23%. Comunque mi sembra tipo Assassin's Creed, però con questi cacciatori di ombre anziché gli assassini. Raga, non lo trovo. Oddio, ci ho messo tre ore per trovare la lingua originale The Mortal Instruments. Tanto Shadow Hunters è in inglese, ha lasciato almeno il titolo originale. 13%. L'ho giudicato anche meglio di quello che in realtà è. Non lo vedrò mai. Ok, per oggi basta anche perché mi sto letteralmente squagliando al sole. Grazie per avermi. Ciao.